In merito all'annosa vicenda dei lavoratori delle case di riposo legate all'ASP 1 di Teramo, il sindacato dell'UGL è riuscito per i propri iscritti a trovare un accordo che prevede il pagamento delle mensilità maturate e non percepite in tre rate da erogare a partire dal prossimo 31 ottobre in contemporanea alle regolari mensilità. Noi abbiamo fatto un passo nel senso di dare ai lavoratori una possibilità che è quella di aver concluso insieme alla ITL una conciliazione dove chiaramente le parti hanno concordato che l'arretrato che ogni lavoratore, chiaramente iscritto all'UGL perché noi abbiamo fatto per i nostri iscritti, che ci hanno domandato, ogni lavoratore percepirà l'arretrato in tre mensilità a partire dal 31 ottobre 2022, in parallelo percepirà anche il salario corrente del mese che intercorre. Quindi penso che l'UGL abbia fatto un passo avanti perché andando avanti per le vie legali sappiamo benissimo che potrebbero passare mesi, mesi addirittura anni. Qui abbiamo messo un paletto, verrà poi rispettato? Non ci sa. A noi comunque ci serviva l'atto. L'atto ce lo abbiamo, laddove non si rispettino le condizioni, chiaramente questo è un atto che andrà a finire e farà il suo percorso anche un iter in tribunale. Un accordo che per la Filcams GGL di Teramo non risolve minimamente la drammatica condizione dei circa 300 lavoratori impiegati nelle case di riposo gestite dall'Aspu1. A noi ci risulta che ci sono ancora 12 milioni di euro di debiti, ci risulta che ad oggi gli stipendi arretrati sono 6, quindi non sappiamo di cosa dobbiamo esultare francamente, perché ripeto, io non so chi ci ascolta se è abituato a essere pagato a rate o ad avere 5-6 mesi indietro di stipendio, però francamente non so se ci sono elementi su cui noi possiamo esultare o su cui possiamo dire che le cose siano migliorate. Fondi della regione non sono arrivati, non ci sembra che il debito sia diminuito, quindi che cosa dovrebbe essere cambiato? O ci hanno preso in giro fino a ieri o c'è qualcosa che a noi non torna. Intanto iniziamo dalla realtà che è sempre quella che ci guida. Oggi sono 6 mesi indietro, qualche settimana fa noi abbiamo protestato davanti alla regione, qualcuno ha detto che facciamo clamori e oggi siamo 6 stipendi indietro.